Allora abbiamo visto bambini con cose in testa che vanno a suicidarsi Kamikaze più o meno Quella cosa che possedeva la gente Aspetta, riesco a evitare No, mi ha preso! No, mi ha preso! Ma non riesco a tornare No, aspetta, mi controlla Mi controlla, posso saltare però Ah, non gli piace la luce Nino Panino Games Ta-da Ma ben ritornati ragazzi in questo missimo video Sono Nino Panino e oggi siamo ritornati sul Limbo Sono già sei anni che sto passando qua In questo carcere chiamato Fognia Questo posto qui, orribile Allora, allora, allora ragazzi Allora, abbiamo visto le conclusioni di questo momento Di quello che ho fatto, allora ho visto Questo si muove? Allora, là ci sono delle spine Quindi, eh, morirò male Ci sono delle scale dove io dovrei Dovrei continuare Non il nostro obiettivo E tirando questa leva Muoio male Vedete? Ma ho il tempo Io di salire No, no, no Ce l'ho il tempo Però ho sbagliato Abbiamo anche una scatola Che galleggia Quindi, con questi oggetti Io penso E dico Penso Che facendo così Siccome dobbiamo arrivare Al coso Dalle scale là in alto Passando di qua Vediamo se i miei calcoli sono giusti Quindi io non lo so Se aprendo questo Dovrebbe la scatola Galleggiare Salire in alto Arrivare lì Dalle Dalla scala che ce l'ha E proseguire verso il nostro viaggio Ok, siamo pronti Vai Vai Sali la scala Vediamo Perché sono tre ore Giuro Tre ore che sono qua Che non riesco a risolvere sta roba No, no Ok No, ok No, di qua Per favore Qua Ok, dai Vediamo se stavolta ce la faccio Preghiamo In tutta la fede Ok, dai Forse ce la facciamo invece E vai Boom Ce l'abbiamo fatta Però il mare L'acqua non sembra che smetta di salire Aha Scatola Ah E qua invece cade l'acqua Eh Cade l'acqua qua Ok, perfetto Vediamo No, no, no Qua dove è Vediamo Vediamo un attimo Ok Vediamo qua allora E qua come è continuo Come è continuo qua Aspetta, cos'è questo? Questo si muove Però non riesco a toglierlo Ok Va bene E vediamo Cosa c'è con il basso invece Oh no Qua sta salendo di nuovo Allora, questo si muove intanto Abbiamo appena scoperto il caso No, no, no No, no, no Dai No Ok, allora Anche questa è una prova a tempo Ok, allora Aspettate un attimo Ho visto Per sbaglio Così ho visto Che c'è un palloncino lì Aspetta, eh Proviamo a farlo Ok, ok Forse quel palloncino Lo possiamo usare Vediamo, eh Adesso dovrebbe stac... Non so se sale No, non sale Sì Si stacca Si stacca No, 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 no Chiudi Si Funziona Funziona, 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 funziona Aspetta, aspetta, eh Perché so che il palloncino li galleggia Dai, sali, 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 sali Corri, corri Corri, bimbo Corri Limbo boy C'è i fans di questo gioco Che lo chiamano limbo boy Ho scoperto su YouTube Dai, vai Vediamo adesso Speriamo funzioni, eh Speriamo Eh, è una scatola Si, è una scatola Dai Si Funziona Oh mio Dio, funziona Oh mio Dio Non ci credo da puttosi tanto tempo Funziona Ok, ora dobbiamo soltanto saltare la Oh Cos'è questa luce Che luce Un po' strana Cosa ci fa una luce qua Nelle fogne poi Dai, va bene Ti lasciamo perdere Continuiamo ad andare avanti Una leva qua C'è una leva Aha Leva Che cosa si succede là Si alza l'acqua Ah, si, si Si dividono Si dividono le acque Questa cosa fa Chiude questo Ok E si alza l'acqua Visto Eh, ragazzi È intelligente il gioco, eh Niente Ma ho preso Ah, che schifo Visto, avevo ragione Non ci credo Avevo ragione Sono un genio, ragazzi Troppo, troppo genio Dai, ora passiamo da questo lato Vabbè 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 Che succede ora Scale Scale E altre scale Continuiamo ad andare avanti Ok Saliamo qua sopra No No, no, no No, no Di nuovo il mare che sale No, di nuovo il mare che sale L'acqua che sale Aspetta, corri Scappa Deve scappare da qualche parte Allora, aspetta Questo galleggia Però non posso fermarmi Il coso non mi fa fermare Aspetta Un attimino Aspetta Devo Posso andare soltanto da questo lato Il mare sta Aspetta La luce Aspetta Mi è venuta Un'idea geniale Un'idea geniale Ho visto che si può salire in alto Ti prego Allora La scatola A quanto pare Vediamo se galleggia Perché Non lo so Vediamo se galleggia Non galleggia No Non galleggia Va bene Allora Il nostro obiettivo è arrivare là Però come Come facciamo Allora ci sono delle spine E Aspettiamo Perché ho visto che c'è il coso che galleggia Deve essere da qualche parte Perché c'era il coso che galleggiava Sì eccolo Lo vedo Lo vedo Eccolo lì Ok ok Andiamo Vai No è vero Mi ero dimenticato Non potevo fermarmi No No Sono morto No ma porca miseria Vabbè ragazzi abbiamo capito almeno Quindi dobbiamo un bug ripartire dopo Ci siamo Alzati ancora un po' di più Avanti Avanti No 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 rallenta Vai Ci abbiamo fatto Togli dietemelo Grazie 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 Non sopportavo più Quell'insetto miserabile Schifoso Oh no Sta salendo ancora l'acqua Sta salendo ancora l'acqua Non è finito Non è finita la battaglia con l'acqua Ah si forse si Ok No No si sta staccando No no Aiuto Non fare scherzi Non fare scherzi Gioco Ok Bravo Fai bravo eh Ok Cos'è hotel Oh no Hotel Si è un po' A volte si Si bugga Ok Hotel Adesso che è spento Vai No sono morto Ok L'abbiamo scoperto Ok Si può scendere da qua Si a quanto pare si può scendere da qua Vediamo un po' Mmh Da quel lato secondo me Non credo faccio salti così enormi Speriamo anche Credo eh Se no sono Superman Qui eh Come poi esagerato Allora aspettiamo proprio il momento giusto Per saltare Vai Fatto Ci abbiamo fatto Eh Cosa mi hai fatto Aspetta 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 Cosa è successo Piano piano scendiamo Senza toccare Ok Ah c'è una corda scesa Adesso Si Togliamo la corrente Oh si E adesso si che possiamo passare Superiamo anche la L Ok No no la L signora L Oh no No Oh mio dio Mi sono salvato Se stavo lì ancora ero morto No Ho fatto un salto Ok aspetta Qua si spacca Adesso si spacca E adesso dove si va Dove si va Dove si va Dove si va Dove vado adesso qua Muro E muro eterno Ma dai Ok ho capito Ho capito bene Cosa devo fare Devo spaccare sto vetro E come vedete Io con questo Così Non ce la faccio E mi sembra di aver capito Perché c'è un coso Qua forcamisa C'è anche una mosca Che mi dà fastidio C'è Perché c'è questo Allora aspetta Vediamo un attimo Se ce la faccio Ok Vai Vai sfonda Te L'ho sfondato No 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 Stavo cadendo Stavo cadendo Ok Sono vivo Sono vivo Ok sono vivo Dove vado adesso Adesso c'è una corda Vai Oh mio dio Si è spaccato pure il coso Ok Quindi così scendiamo Oh Si Vabbè ragazzi Io direi Ahia Io direi Di fermarci qua Siamo ormai già A un altro livello Non siamo più Nelle fogne Appunto questo È il punto Perfetto E niente Ci vediamo al prossimo capitolo Ciao Quack 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 Quack